Rieccoci da DR21, ripartiamo con voi da Claudio Sottili e Elisa Chiringhelli, sempre noi. Sempre noi, proseguiamo quindi con la nostra maratona sulla riforma Cartabia, oggi parliamo della durata del procedimento di mediazione. Altra grossa novità. Voi sapete che la procedura di mediazione come formulata dal decreto legittivo 28 era di 90 giorni, noi e anche la giurisprudenza avevamo interpretato questo termine come non sostanziale, quindi abbiamo spesso, nel caso in cui fosse necessario, autorizzato le parti a derogare ovviamente di comune accordo a questo termine, non ponendoci il problema di ci fosse oltre questo rinnovo un limite temporale. Ah perché non c'era, non c'era un limite temporale. L'articolo 6 del decreto legittivo 28 riformato dice che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, e qua bene o male ricalcando quello che era il decreto legittivo 28 originale, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto dalle parti. Ora, la derogabilità del procedimento di mediazione nel termine di 90 giorni, come vi dicevo, era già stata prevista e formulata, io ho una sentenza del 21 recentissima nel Tribunale di Milano, dove dice in buona sostanza si intende dire che l'operatività del termine di durata della mediazione involge solo gli aspetti procedurali dell'istituto e non come è stato in esame, gli aspetti sostanziali dell'accordo, in cui gli effetti sono stati patiziamente sottoposti a condizioni sospensive eccetera. Tra l'altro, adesso che hai letto questa sentenza, mi può venire in mente che potrà essere uguale nel senso, l'accordo laddove raggiunto sarà valido, efficace, il problema sarà solo sulla sfera processuale in caso di fallimento. Sugli effetti processuali, come ti dicevo prima, a mio avviso va a incidere, va letto in coordinato con quello che prevede la riforma sulla demandata, cioè sui termini che il giudice ha o che deve fissare per la fissazione dell'udienza successiva all'invio, all'esperimento della procedura di mediazione, non potrà andare oltre i sei mesi. Da un punto di vista teorico, processuale, quello è un termine mi verrebbe dire di reprentorio, però in realtà anche qua, se voglio essere pignolo, faccio fatica a immaginare, soprattutto qua a Milano, un giudice che su richiesta di rinvio dell'udienza, il giudice nega il rinvio perché le parti sono ancora in mediazione, ma no, ma sono decorsi. Anche perché potrebbe esserci un tema di pregiudizio ai diritti del singolo, del cittadino, perché nel momento in cui sono vicino a raggiungere un accordo e il giudice mi obbliga a tornare in giudizio e va avanti col giudizio, a quel punto fermo restando che puoi sempre raggiungere un accordo e abbandoni il giudizio, però maturano altre spese. Sì, è vero, io in realtà temo e penso che questo articolo stesso sia stato introdotto proprio per garantire il diritto alla difesa, cioè nel senso, si erano accorti che il decreto legislativo derogato nel termine lasciava sine die il termine di scadenza della procedura di mediazione, questo sì che poneva dei limiti al diritto di difesa dell'individuo, se una delle parti magari tende a procrastinare, è anche vero che l'accordo deve esserci, quindi se la parte che subisce la procrastinazione si oppone, dice no basta, non sono più disposto da accettare, la mediazione non può che chiudersi, però sarà interessante anche qua come abbiamo visto negli altri articoli, vedere come si evolverà la giurisprudenza. Io bene o male negli incontri che abbiamo ottenuto vedo che sempre più c'è la convinzione che questo articolo 6 porterà ad un rigidimento delle posizioni temporali, dei termini della mediazione. Sicuramente andrà a scadenziare e ad abbreviare quelle procedure che si protraevano senza un reale motivo. Certo, secondo me darà una forza in più ai mediatori per razionalizzare le loro agende e anche le procedure. Ovvio è come tu ben sai che nelle mediazioni, il scioglimento delle comunioni, quelle successorie, quelle dove occorre un aperizio, la consulenza di un tecnico. Io proprio l'altro giorno ho subito per la terza volta un rinvio del consulente tecnico di mediazione perché non riusciva ad accedere all'immobile. È un caso abbastanza frequente e lì 90 giorni volano. Se no, in un caso del genere, come diciamo tutte le mediazioni che hanno ad oggetto delle criticità, degli approfondimenti tecnici, vorrà dire che a un certo punto si dovrà avviare il giudizio e poi sarà il giudice a determinare se proseguite con la mediazione oppure fermi tutti si applica quell'articolo. Eh, sarebbe interessante vedere se il giudice poi ridemanda in mediazione una causa avviata che ha già un percorso pregresso di mediazione. No, a mediazione pendente dire noi ce l'abbiamo ancora aperta, sta scadendo il termine dei sei mesi, devo notificare l'atto. Mi chiedo cosa potrebbe succedere se le parti derogano a questi sei mesi, cioè voglio dire se attivo il giudizio a 12 mesi cosa succede? Esatto, cosa succede? Visto che a differenza della negoziazione non è previsto un termine entro cui avviare il giudizio dalla chiusura della mediazione. Eh no, fatto. Quindi diciamo che in realtà questa serie di nostre puntate... No, servono anche per verificare il problema. Io ricordo che originariamente c'eravamo posto il problema sulla esenzione dall'imposta di registro, su come avrebbe regito l'Agenzia delle Entrate su procedure di mediazione dalla durata extra 90 giorni. In realtà l'Agenzia delle Entrate in una circolare aveva chiarito da subito che interessava poco la durata della procedura di mediazione, quindi non vedo perché dovrebbe alla luce di questa riforma anche l'Agenzia delle Entrate cambiare idea. Interessa poco. Vedremo anche su questo punto, come sui precedenti due, probabilmente ci saranno dei bei contrasti giurisprudenziali quantomeno nei primi tempi. Sì, come dicevamo prima, le riforme ancorché fatte bene a noi, io la trovo molto completa molto il decreto di legislatura 28, lo perfeziono in alcuni punti in cui era un po', però tutte le volte che il legislatore mette mano ovviamente la giurisprudenza deve andare a limare e a giustare un po' il tiro. Va bene, abbiamo raggiunto anche adesso il termine, noi proseguiamo con l'ultimo incontro sulla riforma Cartabia la settimana prossima, seguiteci la settimana prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.